che cos'è per te la gioia per me la gioia è una cosa bellissima per me la gioia è danzare una persona che ti rende felice una persona che mi rende felice è mia madre mamma papà e mia sorella la mia migliore amica e la mia mamma il mio papà e la mia sorellina un luogo che ti comunica gioia il luogo che mi comunica gioia è il giardino di casa mia il luogo che mi trasmette gioia è la mia casa perché sto con la mia famiglia un luogo che mi comunica gioia è la mia scuola il luogo che mi comunica gioia è la casa di mia nonna e adesso un gioco no non ho un gioco che mi comunica gioia e un oggetto sì un oggetto sì ed è questa è una lettera che mi ha regalato la mia miglia amica il primo giorno delle medie un gioco che mi fa pensare alla gioia e il mio pupazzetto bambù se mi accompagna fin da piccola qual è per te il colore della gioia e perché per me il colore della gioia è il bianco perché mi ricorda secondo me il colore della gioia è il celeste perché a me trasmette molta felicità il colore della gioia per me è il giallo lo scelto perché mi mette tanta allegria è un colore solare e qui è il mio colore preferito l'immagine più gioiosa in cui ti sei imbattuto questa è l'immagine più gioiosa in cui mi sono imbattuto in quante lingue conosci la parola gioia conosco la parola gioia in tre lingue in italiano gioia in francese gioia e in inglese gioi conosci una frase in inglese che parla di gioia sì happiness is not something already made it's come from your own actions for me joy is friendship e in francese la gioia di vivere è un'emozione contagiosa la vita su chi è per me la gioia è restare con la famiglia dimmi una frase gioiosa non c'è strada che porti alla felicità la felicità è la strada una frase che mi fa pensare alla gioia e oggi non ci sono compiti ed ora leggi la più bella citazione sulla gioia che hai trovato noi siamo il mondo noi siamo bambini noi siamo quelli che un giorno porteranno la luce sorridi fai vedere agli altri che oggi sei più forte di ieri hai mai letto un libro che ti ha riempito di gioia sì ho letto un libro che mi ha riempito di gioia ed è proprio questo il mago di oz di frank boom e un film inside out perché è un film molto significativo soprattutto nell'ambito delle emozioni un film che mi fa pensare alla gioia e il viaggio di argo perché parla di un'amicizia molto stretta e una canzone gioiosa che ti piace una canzone della gioia che mi piace e we are the world we are the world we are the children una canzone che mi punca gioia è felicità una canzone gioiosa che mi piace è jingle bell rock perché io adoro il natale e quindi sono felice ogni volta che la sento una canzone gioia è ride dei 20 on pilots canticchiala no non la canticchio no 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 La gioia è assai contagiosa, cercate perciò di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate. Continua!